Signore e signori, amiche e amici, ciao! Ecco a voi per la 76esima edizione del concorso nazionale di Miss Italia, Margherita! Margherita, 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 Margherita piace cantare, adora cantare. Infatti, se... no, vi propongo un pezzetto di una canzone che è Why Don't You Do Right. So, amiche e amici, cosa ne pensate della mia voce? Se vi sono piaciuta, basta fare un click e like su Facebook. Ciao, ciao!